parliamo un po della vittoria di samson d'auda meritata e meritata giusta meno giusta si sta già parlando un po troppo di ciò chi avrebbe preferito ady chupan chi derek lansford la verità secondo me è che è da qualche anno che non c'è un campione dominante cosa intendo per dominante uno che come lo vedi dici minca questo deve vincere uno che mette d'accordo tutti o comunque un 90 95 per cento di persone cosa che non è successa negli ultimi anni con tutti questi cambiamenti di preferenze da parte dei giudici perché ogni anno vince un bodybuilder con caratteristiche completamente diverse o quasi completamente diverse rispetto agli anni precedenti e chiaramente non sto polemizzando sulla vittoria di samson d'auda me sta benissimo così come sta bene a molta gente questa è la scorecard con la classifica finale vedete che erano molto vicini ady samson derek terzo all'unanimità però questo conferma un po quello che dico non c'è un campione dominante non c'è qualcuno che metta d'accordo tutti credo che la vittoria più che giusta sia meritata e direi che è una vittoria che ci sta però non mi sbilancierei nel dire giusta al cento per cento è una vittoria che ci sta ma se avesse vinto ady chupan ci sarebbe stato comunque e secondo me se avesse vinto derek lansford lo stesso quello che penso che possa aver giustificato la vittoria di samson d'auda credo sia il fatto che abbia portato rispetto all'anno scorso dei miglioramenti più evidenti rispetto ady e derek che comunque hanno migliorato la loro forma però non in una maniera evidente con quella di samson soprattutto per quanto riguarda la schiena di samson e chiaramente il colpo d'occhio del bodybuilder che è più alto e più vistoso quindi credo che il motivo sia questo perché samson non era più definito e ormai la definizione non è che sia un parametro così importante e poi ne parlerò anche più in là ady e derek non sono peggiorati ho visto dei confronti con l'anno scorso e non sono assolutamente peggiorati hanno portato un pacchetto molto simile l'anno scorso con miglioramenti quella è probabilmente fare un video di confronto tra le versioni di questi tre tra l'anno scorso e quest'anno è chiaramente non sto sponsorizzando la vittoria di derek per dirne uno o di ady o di samson dico che sono migliorati tutti e tre però samson è semplicemente quello che ha portato i miglioramenti più evidenti o magari i giudici lo preferiscono ady non lo so però c'è da dire che ady qualche mese fa l'ha battuto quindi facciamo un passo indietro 2017 ultima vittoria di philip ottima definizione bodybuilder molto completo un po di spacciamento che gli è stato concesso nel 2017 invece gli è stato fatto pagare nel 2018 show roden schiena e definizione inferiori a philip però buon pacchetto completo dire che quella vittoria aveva messo d'accordo un po tutti 2019 vittoria mutilata di brandon curry con assenze importanti phil sean big rami una buona prestazione però un bodybuilder non molto definito con gambe indietro ma molto estetico 2020 2021 si torna ai mass monster un big rami di sicuro non nella sua migliore condizione perché il suo miglior pacchetto come detto miliardi di volte il 2013 new york pro andatevi a guardare il video che ho fatto che si chiama big rami quindi hanno premiato un rami di sicuro non al top della sua forma è ancora un cambiamento di preferenze nei giudici buona definizione buco nella schiena 2022 vittoria di ady chupan rami relegato al quinto posto se non erro quindi ancora un grande cambiamento un bodybuilder molto definito ma diverso da tutti gli altri che avevano vinto gli anni precedenti l'anno scorso ha vinto delle clansford un bodybuilder ancora diverso magari meno definito di ady più estetico più completo secondo me rispetto ad ady e quest'anno ovviamente vittoria di samson dauda farò un video che secondo me è molto interessante su ady perché mi è venuta in mente una cosa molto interessante ieri poi i prossimi giorni lo farò quindi molti campioni tutti molto diversi tra di loro con ogni anno dei parametri diversi secondo me se vi ricordate un paio di anni fa quando aveva vinto ady dicevo che i giudici ogni anno cambiano idea che cambiano modo di valutare le gare poi chiaramente ero stato perculato perché sembra che stessi dicendo cose folli però mi sembra che la storia come si suol dire mi abbia dato ragione e come sempre mi dà ragione perché questa vittoria ci sta non si discute penso che metta d'accordo molte persone ma non tutti però è anche vero che ormai la definizione come criterio di valutazione non è più così importante perché abbiamo visto molti mister olimpia che non erano particolarmente definiti non ultimo samson dauda che non è un maestro di definizione quindi ogni anno c'è qualcosa di nuovo nei giudici sono molto curioso di vedere la disamina di tyler manion che fa in genere dopo ogni gara che giudica per capire cosa abbiano visto in samson è che li abbia convinti della sua vittoria e ripeto perché so che sono ripetivo ma la gente non azzecca i concetti in genere non discuto la vittoria sto solo dicendo che ogni anno c'è qualche cosa di diverso cioè siamo passati da bigrami a di chupan poi da due bodybuilder piccolini di nuovo un bodybuilder grosso però meno definito e samson non era particolarmente definito sicuramente un miglioramento soprattutto nella schiena anche nella definizione ma non una definizione da mister olimpia secondo me poi scrivetemi quello che ne pensate anche voi cosa pensate che vedano i giudici cosa pensate che abbia convinto i giudici e se anche voi pensate che i criteri di valutazione cambino un po' troppo non è una polemica è giusto una puntualizzazione su questa incertezza da fan del bodybuilding che rimane un po' con uno sguardo a punto interrogativo quando vede che ogni anno le cose cambiano quindi vittoria giusta secondo me più che giusta direi che ci può stare avrei potuto vincere adi abbiamo visto che i giudici un po' tendevano anche per adi secondo me avrei potuto vincere anche derek perché come detto è un pacchetto molto simile all'anno scorso ma è anche migliorato però attendo con impazienza l'analisi di tyler manion per il resto comunque vedi compliments ancora a samson dalla sono felice proprio perché mi sta molto simpatico come detto soprattutto dopo tutta la merda che gli hanno tirato addosso dopo cambio di coach si è fatto seguire dalla moglie dopo che era gareggiato in francia eccetera eccetera buona